buongiorno a tutti oggi parliamo di terre per il contouring una piccola premessa che cos'è il contouring cioè non è una parolaccia non è ma sicuramente se siete qui sul mio canale sapete che cos'è perché siete appassionati di trucco di makeup quindi dovete saperlo sto scherzando ovviamente allora il contouring è un gioco di ombre e successivamente di luci con l'highlighting che modificano le geometrie facciali quindi ad esempio quello che vedete qui che in realtà se mi strucco io non ho questo zigomo lo sapete mi conoscete non ho questo zigomo e anche ai lati del naso per restringerlo colori scuri rimpiccioliscono i colori chiari ingrandiscono quindi tecnicamente con il contouring riusciamo a modificare proprio le geometrie facciali ma in realtà qual è il colore più adatto per il contouring esistono una marea di di tinte e di terre quale scegliere una delle più grandi regole del makeup è utilizzare un marrone freddo che cos'è un marrone freddo è un marrone che non ha all'interno del rosso ma bensì è meno saturo all'interno un po più il grigio sembra quasi un tortora questo è il marrone freddo non è un marrone caldo questo però non significa che dovete utilizzare il marrone freddo anche sulle ragazze di colore o sugli incarnati molto caldi su quegli incarnati se tentate di utilizzare il marrone freddo otterrete un bel grigiume quindi per quegli incarnati io ho scelto alcuni colori un po più caldi da poter utilizzare come contouring in questa selezione e vi assicuro che ho fatto una selezione veramente molto grande non potete sbagliarvi vi anticipo però che molto spesso il contouring cioè più che altro riscaldare l'incarnato anche con una terra calda non è errato quello che è errato ovviamente fissare il fondotinta con la terra cosa che ahimè lavorativamente ve lo posso confermare succede molto spesso altra piccola premessa è che esistono contouring in crema e in polvere personalmente io amo quelli in crema perché si sfumano benissimo e si fondono già col fondotinta però ovviamente c'è bisogno un po più di tempo quindi io vi dico la verità ogni mattina su di me vado con la terra molto molto velocemente ma quando trucco una sposa quando devo fare una correzione importante vado a utilizzare una sostanza cremosa il prodotto che utilizzo io e che è unico nel suo genere è questo qui me l'avete visto utilizzare miliardi di volte questo è il terzo che acquisto è il D11 di Criolan è il dermacolor ossia un fondotinta camouflage ha una consistenza molto densa quindi ce ne vuole veramente poco ed è perfetto per fare il contouring perché è un bellissimo marrone freddo e poi vi parlo di questa che è la contourmania ne mostro due perché questa qui è quella che tra virgolette è quella che mi sta terminando e questa è la nuova questo vi fa pensare quanto io ami questo prodotto per tutti i giorni anche se effettivamente il colore è molto caldo a che mi direte perché una matita matitone per il contouring caldo ora non lo so però effettivamente per il contouring veloce questo prodotto è veramente unico quello che faccio io è questo cioè faccio il contouring con questo qua se vedo che magari ho applicato troppo prodotto e si questo arancione ai lati del naso vado poi con la bama mama di the balm a ricalcarlo e a rendere un po' più freddo questo colore lo so che magari è un passaggio in più però in velocità se applicate poco prodotto cioè poco marrone veramente la contourmania vi cambia la vita questo no ditemi ciao ciao capello ciao un altro prodotto in crema è di mulac artemide che è questo marrone però molto scuro quindi ce ne vuole pochissimo perché effettivamente se ne mettete troppo fate un pasticcio quindi poco alla volta lo dosate lo sfumate con una buona spugnetta da sfumatura magari una beauty blender bagnata lo fondete bene a fondotinta incipriate tutto e poi magari ricalcate con una terra al di sopra per metterla di noi in evidenza parlando sempre di mulac mulac fa anche ipno ipno in polvere vedete che questo è comunque un tortora però un tortora più chiaro quindi io lo preferisco molto sugli incarnati molto chiari perché comunque è evidente e non crea un eccessivo contrasto quindi è ottimo per gli incarnati chiari mi sono stroppiato il comito questa qui questa è la terra più utilizzata dal web per fare il contouring che è la Bama Mama di The Balm la utilizzo tantissimo anche io per il contouring veloce rapido e in dolore ogni mattina zac zac velocemente si sfuma bene se ne mettete di più è più evidente modulabile e così via veramente ottima un altro che però ai mesi è rotto ma l'ho utilizzato per molto tempo fin quando non si è rotto perché poi l'ho ricompattato ma mi si è rotto di nuovo è un ombretto sempre di Criolan ahimè non ho il nome perché si è cancellato ma è il tortora comunque è un color tortora vabbè comunque se avete qualcuno che vende Criolan che l'ombretto compatto o tortora è perfetto per fare il contouring da questa palette di Nars abbiamo questa terra qui che è Laguna è vendibile anche separatamente quindi non pensate questa palette in si per si ma in realtà è vendibile anche separatamente è un ottimo prodotto per fare il contouring anche se ha un pizzico pizzico di rosso cioè nel senso è un poco poco calda ma non eccessivamente quindi è perfetta per fare il contouring anche questa si sfuma bene non fa chiazze veramente ottima anche la durata poi ovviamente stiamo parlando di Nars che è un brand a mio parere molto professionale Nabla ha lanciato un po' di tempo fa i blush e ha lanciato quindi anche la terra per il contouring ne fa tantissime io ne ho due allora questa qui è Gotham ed è un marrone freddo mentre quest'altra che è Saint-Tropez è un marrone un po' più caldo potete notarli a vicino Saint-Tropez è anche un pelo pelo più scura ok io le amo mischiandole cioè mi piace perché esce un bel effetto un bel marrone che non è né troppo freddo né troppo caldo però se volete un contouring fatto per bene dovete utilizzare Gotham qui abbiamo la palettina mia per il contouring blushing di MAC il colore per eccellenza per il contouring che fa MAC è taupe fa parte della linea pro quindi lo trovate solo nei MAC pro ed è in cialda singola lo vendono solo così ed è un marrone non eccessivamente scuro quindi per avere un effetto un po' più evidente dovete calcare devo dire che non amo questo prodotto particolarmente perché trovo veramente sia troppo troppo leggero cioè nel senso per avere un bel effetto devo stare lì a lavorarlo per bene perché non è evidentissimo un altro che però ahimè si è rovinato è questo qui sempre di MAC che dovrebbe chiamarsi Harmony non ho più il nome dietro vedete però è un marrone sempre freddo però un pizzico più di rosso quindi è un poco più andante verso il caldo ma non eccessivamente lo trovo molto più pigmentato di top sempre di MAC beh questa qui è la palettina di Anastasia Beverly Hills che ha spopolato sul web e abbiamo quelle in polvere ci sono sia gli illuminanti che quelle in polvere devo dire che l'effetto ovviamente del contouring fatto con queste terre è eccezionale abbiamo una vasta scelta di terre dalle più calde che vanno bene per gli incarnati più caldi e appunto anche di persone di colore a quelli un po' più freddi si sfumano bene non creano chiazze mi piacciono tantissimo e devo dire che purtroppo le utilizzo poco questa qui questa qui che cos'è è la palettina di Kat Von D che è famosissima letto da qualche parte che tra poco sarà vendibile anche da Sephora Italia io l'ho comprata in America e vedete che è semi nuova perché l'ho utilizzata veramente poco ma rimedierò prometto che rimedierò mi piacciono tutte e tre le terre e le trovo tutte iperpigmentanti l'unica pecca è che sono poco poco polverose però ciò non toglie che comunque stiamo parlando di una palette perfetta cioè nel senso c'è ogni tonalità quella che preferisco è questa qui perché è un'intermedia riesco ad applicarla senza troppo impegno quindi senza ad usare eccessivamente il colore perché ad esempio questa qui che poi è un poco poco più calda è molto scura quindi su di me si vede subito passiamo adesso a 5 terre tendenti più al caldo che mi piacciono per scaldare di più l'incarnato cosa che dobbiamo fare soprattutto post estate quando il nostro incarnato è caldo per via del sole che abbiamo subito tra virgolette durante l'estate quindi siamo abbronzate e siamo più calde oppure per gli incarnati olivasteri e mulatti sono degli incarnati che c'è bisogno un po' più di scaldare con un marrone un po' più caldo invece che freddo la slick fa questa palettina qui che è specifica per il contouring ed è la medium l'illuminante non mi fa impazzire mentre la terra è veramente ottima anche qui parliamo di un brand molto economico ma con una performance veramente ottima se l'avete fatto caso che sto invecchiando e mi è uscita la ruga questa è una di quelle terre vedete com'è di Kiko che amo particolarmente perché è media come colore e anche se è calda non uscite arancioni insomma la numero 6 la trovo molto bella anche come texture si sfuma bene non è polverosa veramente ottima questa qui che è di Labo vedete com'è questa linea qui dorata numero 41 è sempre intermedia non è eccessivamente scura però è sempre sull'andante caldo quindi ve la consiglio sui incarnati un po' più caldi ma un po' più chiari e questa questa qui non potevo non inserirla questa qui è quella di brujoir quella che sta di cioccolato è buonissima oltre che bellissima vedete che io l'ho utilizzata cioè l'ho utilizzata parecchio d'estate me la portavo dietro in tutti i viaggetti che ho fatto e ho riacquistato anche un altro con un altro pack ma è la stessa devo dire che la trovo veramente perfetta per fare il contouring quando siete abbronzate o quantomeno io la trovo eccezionale proprio perché io nella parte frontale tendo comunque un po' a sbiancarmi quindi facendo il contouring in questa zona qui cioè qui e sulle tempie la trovo ottima ultima terra ma non per importanza è la 202 di Bioniche che è sempre intermedia ed è veramente bellissima per fare questo contouring molto leggero ma sempre tendente al caldo e niente questo era il video sulle mie terre preferite di sempre per il contouring e io spero che vi sia stato d'aiuto fatemelo sapere qui sotto e fatemi sapere se mi consigliate qualche terra così magari vado a fare shopping e vi do un grosso bacio e ci vediamo domani ciao